La Virtus Avellino dopo aver salutato gli illustri tiri a torsiello ed aver dato il benvenuto a Todino, ad Andrea e Cioffi, si appresta a concludere il ginone di andata in questa prima esperienza in eccellenza, sfidando il quasi perfetto Sorrento di Guaraccino. Il bianco-nero-verdi con un'eventuale vittoria arriverebbero a siorare il secondo posto in classifica. Un cammino, quello della seconda squadra di Avellino, che per ora non ha certo deluso le aspettative, ma per la mole di giocatori presenti in rosa ci si aspettava un qualcosa in più. Ma mister Crescitello è fiducioso della sua macchina che è presto. Vedremo andare al massimo. Sì, non c'è una squadra battistrata. Ci sono tre, quattro formazioni importantissime perché Cervinara, Agropoli, Valdiano e Sorrento. Sono sicuramente delle squadre che hanno pochissima differenza. Credo che questo campionato si deciderà verso le ultime giornate, non come in precedenza che praticamente a gennaio, agli inizi di febbraio era già finito. Questo sarà un campionato tiratissimo e ci sarà da divertirsi, credo veramente sarà un bellissimo campionato. Ecco mister, prossima partita ci sarà il Sorrento. Che sfida ti aspetti? Soprattutto che Sorrento ti aspetti di trovare? Ma il Sorrento che praticamente credo che sta puntando a vincere il campionato. Noi andremo a fare la nostra partita, consapevoli della nostra bravura, però è chiaro che sappiamo della forza dell'avversario, quindi ci prepariamo al meglio. È chiaro che sarà una sfida durissima.